Comissario Politico Regional Partito Democratico, Mariano Malik, che è la bella e fiera che la politica storia non figura. Partito Democratico, Mariano Malik, la politica storia non figura. sono stati esso resta questi Hai f pro digits Ma Voi voti per la nazione, per poi non ne è scopo a fare il Parlamento. Non si sono solo a fare la nazione, non è 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 solo a fare la nazione. Malik Hatutan, la bella due dita mai ha mutato del Partito Democratico, ma unica PDM che si mata dal mondo. il popolo Compañerosi, Rai ne ne hao cullia parani, te parai ne ne hao rai ne ne hao. Nella famiglia, ma te parai ne ne. Tama ne, la bella tau, la bella haqfodak, kata kau bau partiti democratico, emaseluxi ambeasau. Ambeasau terror, intimidazione, laihe wana, ne liitiona. Itakara liberare nemmaka, itakara liberare nemmaka, e tafohan mamate, ma duun inimigo saio si te let. Ma ibeohi liberdari, demokracia ne ha tak libre, atu eskollia, libere atu kolia, libere atu impoen o neakara ne baihia, uku naisira. Tama ne maka, partiti democratico, mai nafati debocira, husu nafati debocira, obriga nafati debocira kata, dalan diakliu, partidu nebe mak diakliu, atu eskollia, unico, partidu nebe mak diakliu, partidu nebe mak diakliu, comunga diakli, partidu nebe mak diakliu, partidu nebe mak diakliu, diakliu nebe mak diakli, i tessarodze seh uskala baita. Niadehan, pede ihaona esperiencia, atu liberta pobu si kiak no mukit, tamba ihaona esperiencia uku na opozisan, tambane perontuona halotwyrni filosofie ida harina sang husibaze. Reportazen liha demokratiku. diakli, 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 semmo, hasta luar champau.